Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi sabato 1 ottobre 2022 e iniziamo un altro mese insieme, quello cominciamo leggendo le notizie che appaiono sui giornali questa mattina come sempre con il Corriere Adriatico e il resto del Carlino con cronache locali. Partiamo dal Almanacco e vediamo il Santo del Giorno, oggi si festeggia Santa Teresa di Lisier, un nome molto comune anche ai tempi nostri, quindi facciamo gli auguri a tutte le persone, a tutte le donne che si chiamano Teresa. Teresa è un bel nome come Teresa Lisier fu una splendida santa, si fece carmelitana, giovanissima a 15 anni, visse nel XIX secolo ma morì in giovane età soltanto a 24 anni dopo 9 anni di monachesimo, dedicò la sua vita soprattutto all'esistenza a Gesù appunto e morì perché si ammalò grazie dopo ai sacrifici anzi che fece durante la sua vita religiosa, Santa Teresa di Lisier. Vediamo le previsioni del tempo. Nelle Marche la giornata si presenta molto variabile, ci saranno schiarite sulle aree settentrionali interne e temporali nel sud delle Marche verso l'Ascolano al pomeriggio, il clima però si mantiene mite, le temperature oscilleranno dai 16 ai 20 gradi, i venti ispireranno sulle coste con una direzione da ovest e nell'interno da ovest e sud ovest le temperature sono in calo e il mare è mosso. Diamo un'occhiata anche alla situazione, vediamo qui una bellissima spiaggia, è quella di Senigallia, vediamo come il tempo, il colore del cielo è grigio, abbiamo delle nuvole che sovrastano appunto il mare e la spiaggia di Senigallia, una spiaggia che è stata ormai sgomberata totalmente dagli ombrelloni e si prepara ad affrontare la stagione invernale, comunque l'immagine è sempre molto molto bella per tutto il litorale che ha una grande evidenza a livello nazionale quello delle Marche. Ed ora passiamo alle notizie che ci evidenziano i giornali questa mattina, vediamo come la pagina di Fano del Corriere Adriatico ci informa su quanto avvenuto l'altra sera in Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale piuttosto turbolento, dobbiamo dire perché all'interno del Partito Democratico, che è il maggior partito di coalizione amministrativa, ebbene si sono evidenziate delle divergenze. Il Partito Democratico si presenta ancora spaccato tra diverse posizioni, PD spaccato ancora su due votazioni intitola il Corriere Adriatico e questo determina l'ira del Sindaco, l'ira di Seri, ci sono degli irresponsabili, ha dichiarato. La capogruppo del Partito Democratico, la Giacomoni, insieme ad altri due consiglieri, Clini e Lucioli, che cosa hanno fatto? Si sono astenuti nel votare un requisito di una delibera. La delibera è passata, però ci voleva anche l'immediata eseguibilità. Si trattava di lavori pubblici, lavori pubblici che dovrebbero essere eseguiti urgentemente per non perdere i finanziamenti e per soprattutto riuscire a non demandarli ancora al prossimo anno. Però questo non potrà essere eseguito perché l'immediata eseguibilità non è stata approvata e quindi c'è stata maretta, anzi dobbiamo dire tempesta, in Consiglio Comunale, soprattutto anche nella giornata di ieri quando c'è stata la reazione del Sindaco. I due casi su cui sono evidenziate le divergenze all'interno del Partito Democratico riguardano una mozione che si riferiva ad accelerare i tempi per la realizzazione della strada che dovrebbe unire la nuova scuola di Cucurano Carrara alla Flaminia. Strada che ovviamente era stata promessa ai residenti, i quali l'avevano richiesta per eliminare il caos del traffico che si determina ogni mattina quando i genitori accompagnano i bambini a scuola, però adesso sembra che qualcuno ci abbia ripensato. Si dice che magari fare una nuova strada e portare il traffico vicino alla scuola non è opportuno per i bambini, c'è una situazione di pericolo ma anche di caos di carattere ambientale e quindi ci sono stati dei voti contrari. Insomma il Partito Democratico in questo caso è rimasto diviso e poi si è diviso appunto su quella delibera che evidenziava, che proponeva una variazione di bilancio per mettere a disposizione dei fondi per alcuni lavori pubblici. Si parla di lavori al Teatro della Fortuna, si parla di lavori per l'ingresso della passeggiata dell'Esipo, si tratta delle asfaltature, delle strade per cui la Giunta proponeva un incremento di 300 mila euro. Purtroppo questo al momento si dovrà aspettare per essere eseguito e qualche finanziamento potrebbe essere a rischio. Ecco perché il Sindaco è insorto. Abbiamo tutta la pagina del Corriere Adriatico dedicato al Consiglio Comunale. Giacomoni, così compromettono le priorità, c'è un dissenso di fondo, eccolo qua l'articolo, c'è un dissenso di fondo sulle scelte della Giunta per l'avanzo di bilancio e poi un articolo di Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia. Colpi di scena con l'assessore competente di Missionaria. Fratelli d'Italia segnala lo sbando della maggioranza. Ma a questo punto diamo un'occhiata anche che cosa ci dice il resto del Carlino. E sul resto del Carlino vediamo che il titolo di apertura è dedicata all'assessore Barbara Brunori, la quale, come ha fatto il Sindaco, insorge. Caos in maggioranza, slittano i lavori urgenti, è il titolo, e poi scintille in consiglio dopo l'uscita della Giacomoni. Luccioli e Clini, i tre consiglieri dissenzienti del Partito Democratico, la Brunori infuriata, con questa gente non si può lavorare, ha dichiarato. I cittadini ci chiedono di chiudere le buche nelle strade e non vogliono assistere alla pantomima messa in scena giovedì sera in consiglio comunale. L'uscita dall'aula dei tre consiglieri anzidetti è stata determinante e quindi con i voti contrari dei consiglieri, questi però sono ovvi, quelli dell'opposizione, di Fratelli d'Italia, della Lega, c'è stata anche l'astensione dei 5 Stelle e appunto ha determinato questi problemi a carico della Giunta. E qua abbiamo anche un articolo che riguarda la presa di posizione della Giacomoni, del capogruppo del Partito Democratico. Centrosinistra frammentato anche sulla strada di Cucurano. Il centrosinistra si spacca anche sulla strada di collegamento tra via Dubcek e via Flaminia a servizio della scuola primaria della futura scuola dell'infanzia, scuola primaria che è già in funzione appunto a Cucurano. Ed ora continuiamo a leggere le notizie sul Corriere Adriatico, giriamo pagina e vediamo come in questo caso si parli di letteraria. Letteraria giunge alle sue tre giornate finali del concorso lanciato anche quest'anno, un concorso sempre più importante e dobbiamo dire sempre più coinvolgente. Un concorso che evidenzia come mille studenti, siano mille studenti delle scuole superiori di tutta la provincia, ma anche delle province limitrofe e anche delle province di altre regioni, siano stati coinvolti come giuria in questo concorso. Un coinvolgimento che stimola poi gli studenti a leggere i libri. I libri che sono attuali, i libri che vengono stampati in questi ultimi tempi dalle case editrici e vediamo anche sul Corriere, sul resto del Carlino, come ci siano dei dati molto molto significativi. Guardate bene, 1700 studenti, 120 libri in gara e tre giornate per incoronare i vincitori della nona edizione del premio fanese per la narrativa. Sono questi i titoli significativi che evidenziano il valore di letteraria. 1200 libri donati alle scuole e alla Memo per un valore che supera i 20.000 euro che sono stati letti appunto da 1700 studenti delle scuole di Fano, Pesaro, Urbino, Senigallia e Brunico. I dieci finalisti che concorreranno alla segnazione del premio finale durante le tre giornate del 7, 8, 9 ottobre, l'otto sera nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna si terrà la cerimonia delle premiazioni, sono Alessio Arena, Giulia Baldelli, Maurizia Belmelli, Andrei Longo, Nicola Manupelli, Anna Mioni, Maria Rosa Musco, Marco Rossari, Elvira Serra e Luca Trapanese. E dobbiamo dire che a questo concorso concorrono le principali case editrice del nostro paese, quindi è un concorso importante. Allora torniamo al Corriere Adriatico e passiamo ancora alla protesta dei residenti di Carrara. Carrara è già una frazione penalizzata, la nuova centrale elettrica dovrebbe essere realizzata a Bellocchi, si tratta del punto di smistamento della corrente per quanto riguarda l'Adriatic Link. C'è una nuova protesta che viene evidenziata tramite una lettera aperta dai residenti, i quali nonostante le trattative, nonostante i correttivi che Terna ha assunto per cercare di lenire il rumore emesso dalla centrale elettrica di Carrara, rumore che va e viene nei giorni scorsi a causa di un problema che si è verificato nella rete elettrica, i condensatori, i trasformatori si sono riaccesi e quindi il rumore si è sentito per due o tre giorni, ebbene i residenti vogliono farla finita, vogliono che questo nuovo impianto venga spostato, non venga fatto dalla loro frazione. una frazione che ha diversi nodi al pettine, manca l'acquedotto comunale, le fognature, l'illuminazione, strade sicure asfaltate, la zona dell'ex cava Solazzi deve essere ancora bonificata, insomma ci sono diversi problemi da risolvere a Carrara e questa lettera dovrebbe sensibilizzare ancora di più le istituzioni per correre ai ripari e vedremo l'effetto che otterrà. Giriamo pagina, passiamo al Val Cesano dove nel Catria c'è un problema per quanto riguarda i pascoli dei bovini e gli equini che sono appunto liberi di pascolare nei terreni montuosi. ripristinate le strade per l'accesso, si tratta del bestiame al pascolo che deve essere recuperato, c'è anche stato un sopralluogo dei geologi di tre università, tra bovini e equini sono circa 650, pensate sono parecchi, gli animali portati al pascolo in questa primavera in cima al Catria, bestie che oggi se non si riaprano le strade di accesso al massiccio e non si provvede a sistemare soprattutto la rete idrica, prima o poi saranno in difficoltà, devono essere recuperate, insomma non possono passare l'invernata all'aperto sul Monte Catria con tutti i problemi di carattere meteorologico che possono verificarsi. E veniamo anche a Senigallia. A Senigallia incombe l'incubo burocrazia, perché? Perché per ricevere poi tutti i contributi che dovrebbero essere destinati alle persone che si sono trovate in difficoltà, che hanno ricevuto molti danni a causa dell'alluvione che si è verificata nei giorni scorsi, ebbene i rimborsi sono ad ostacoli, i moduli sono difficili a compilarsi, per un permesso su rifiuti, pensate ci vogliono addirittura otto giorni, e a questo proposito interviene anche il Sindaco Olivetti. Moduli troppo complessi ha dichiarato, li abbiamo modificati, e c'è ancora una distesa di fango in centro da rimuovere. Oggi una nuova allerta per quanto riguarda le condizioni del tempo, e quindi c'è ancora molto molto da fare. E questo sistema già complesso per conto proprio, per queste difficoltà che i cittadini, i residenti devono combattere, devono confrontarsi, devono superare per poter aspirare ad una vita normale, arrivano anche gli sciacalli, e questo veramente è il comportamento più turpe che una persona potrebbe condurre. Sciacalli senza pietà ancora in azione rubano pure una collezione di trenini, si fingono dipendenti del comune, entrano in un'abitazione e scappano con 50 pezzi. Era una bella collezione di treni in miniatura, del valore di diverse migliaia di euro. È accaduto ad un alluvionato. Ha creduto davvero che i due impostori fossero stati mandati dal comune per una verifica dei danni, li ha lasciati controllare mostrando le zone più critiche, ma questi erano dei ladri e volevano semplicemente rubare quello che c'era all'interno dell'abitazione e il valore più cospicuo era quello della collezione dei treni. Sulla pagina di Pesaro, Tari, il super sconto fa gola, il comune, al comune vengono inoltrate oltre 2.500 domande. Ecco qui una sintesi di quanto questo beneficio che il comune ha varato nei confronti delle famiglie più deboli viene utilizzato. Il contributo per l'imposta sui rifiuti. Sono 200.000 euro che il comune ha stanziato con finalità di sostenere le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica, quelle che sono più fragili nel versamento delle spese relative ai rifiuti domestici. Ieri, 30 settembre, era il termine ultimo per la presentazione delle domande. hanno fatto richiesta, come si diceva, oltre 2.500 famiglie e le persone, i nuclei familiari residenti nel comune di Pesaro in possesso dei requisiti specificati nell'avviso pubblico potevano presentare domanda e così hanno fatto. Il comune a questi copre il 75% dell'importo della bolletta. Insomma, non è poco. Su 100 euro, 75 sono a carico del comune. Un importante sostegno per coloro che si trovano in difficoltà. E' difficoltà anche la provincia per garantire il riscaldamento nelle scuole. Il presidente Giuseppe Paolini ha detto per il riscaldamento arriviamo fino a dicembre. Sono 3 milioni in più le spese, l'allarme appunto del presidente. Per il momento le spese sono coperte, poi per il prossimo anno si vedrà, ma anche qui si fa riferimento all'aiuto dello Stato. Un pressing di Biancani e il consigliere regionale per la sanità. Riaprite la pediatria pesarese, però mancano i medici per coprire i turni. Scadevano due giorni fa le offerte del maxi appalto di Marche Nord, per il bando una partenza a novembre. I nuovi locali sono pressoché pronti per quanto riguarda l'attivazione di questo reparto, ma all'inizio del mese di ottobre non vede la riattivazione a Pesaro dei servizi del Dipartimento Infantile. Ed è veramente una carenza, questo dei servizi sanitari pesaresi, che crea preoccupazioni e proteste nei confronti della cittadinanza. Vediamo anche un articolo che riguarda le antenne della fonia mobile. Dietro la stazione ferroviaria si installa la nuova antenna dei 5G. Vi ricordate il contenzioso che avevano sollevato i cittadini di Soria per la realizzazione di una nuova antenna nel loro quartiere? Ebbene, ora c'è la parola fine a questo contenzioso che ha riguardato il quartiere. Dopo allo stop estivo si ritorna a parlare dell'installazione delle antenne di telefonia 5G. L'amministrazione comunale si è espressa con favore, e questo appunto è la novità, sul posizionamento della nuova stazione radio in via Cardinal Massaia. L'installazione dovrà essere completata tra il 5 e il 14 ottobre e interesserà l'area interna al parcheggio di Porta Capuccini, quindi gli abitanti di Soria possono restare tranquilli. E qua vediamo una notizia di cronaca. Bivacca nell'albergo già chiuso. Finita la stagione estiva, questo albergo ha chiuso i battenti e ha suscitato l'interesse di un senza tetto che cercava di ripararsi per passare la notte, ma è stato sorpreso dai proprietari, i quali dormivano loro all'interno del loro albergo. L'uomo nel momento in cui è arrivata la polizia per portarlo via si è scagliato contro gli agenti, i quali lo hanno arrestato per resistenza. Si tratta di un 54enne originario di Cerignola, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Di fronte a questo caso di cronaca, di occupazione abusiva di uno stabile, però c'è un caso di carattere sociale che deve essere risolto. Non sappiamo se la scelta del senza tetto è una scelta che lui ha fatto, di proposito è una scelta o è una scelta per necessità. Insomma, le cose sono da verificare. Giriamo ancora la pagina e vediamo la pagina di Urbino. Potere pubblico e arte contemporanea sono le due ragioni che hanno motivato Sgarbi a organizzare la mostra per il Duca Federico. Sgarbi attualizza la lezione di Federico per il Seicentenario del Duca. In esposizione, nelle sale del Castellare, le opere di otto artisti e sono artisti moderni. Un'iniziativa questa, la mostra di Sgarbi, che a parte il suo valore culturale, ha suscitato qualche reazione contraria appunto per la discrasia che esiste tra l'arte contemporanea e il Rinascimento, epoca in cui visse il Duca Federico. A questo punto torniamo a dare un'occhiata, anzi, al resto del Carlino. Abbiamo visto le notizie di Fano che riguardavano il Consiglio Comunale e poi letteraria, letteraria il concorso, le cui tre giornate finali saranno quelle del 7, 8, 9 ottobre prossimo, venerdì, sabato e domenica. E quindi passiamo a Pergola, Mondavio. A Pergola e a Mondavio per quanto riguarda la Guardia Medica. Mondolfo a questo proposito sarà a pieno regime, ma la Guardia Medica a Pergola e a Mondavio sarà a Sigliozzo. Quindi a Mondolfo va bene, a Pergola e a Mondavio non tanto bene. La Regione ha messo in campo 30 neolaureati per far fronte alla carenza e per il secondo mese consecutivo, dopo che dal 1 marzo al 31 agosto era stata completamente chiusa la Guardia Medica di Mondolfo, sarà a pieno regime con tutti i turni garantiti. Mentre continueranno però ad essere a Sigliozzo quelle di Pergola e Mondavio che per circa un semestre sono state sostanzialmente ad incastro. Quando funzionava uno, non funzionava l'altro. Se un turno era scoperto, da una parte era garantito dall'altra. Ma ora appaiono ancora più slegate, con la carenza di maggiori sulla città dei bronzi. Quindi soffre più Pergola che Mondavio a questo proposito. A Pergola però, in compenso, viene potenziata la chirurgia. In questa settimana, nel reparto del primario Gamma Rotta, sono ripresi gli interventi in anestesia generale, a distanza di oltre tre anni. Questo è un progresso considerevole. Già da un anno, ha dichiarato il primario, siamo un punto di riferimento significativo per la proctologia, ovvero la chirurgia inerente il colon e il retto. Soprattutto da aprile, quando il reparto è stato dotato di un strumento laser innovativo, di cui non dispone nessun'altra struttura delle macchie. Quindi un importante punto di riferimento a Pergola. E poi ci sono altri interventi che vengono fatti ora con anestesia spinale. Si possono eseguire anche quelli con anestesia generale, come tutta una serie di problematiche, tra cui colecisti, erni, laparocelli, insomma interventi di media e di alta specializzazione anche a Pergola, il che insomma è una risorsa per la nostra regione. Lavori a Santa Chiara d'Urbino, tutto fermo per l'aumento dei costi. Il sindaco ha dato due spiegazioni a questo proposito, il rincaro delle materie prime e poi il capitolato che deve essere cambiato e la provincia che va a rilento. Il progetto prevede il consolidamento del versante di Santa Chiara con il recupero e il ripristino del giardino confinante con l'ex tribunale. Vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino. Foglia, la laminazione, per tenerlo buono, è un dispositivo importante questo per cercare di prevenire allagamenti. Le ricette contro le alluvioni. Biancani dice serve il secondo stralcio dietro lobby e risalcimenti agli agricoltori per i danni alle culture. Ci sono due interventi a questo proposito. Il primo di Luca Ceriscioli, l'ex presidente della regione, che evidenzia come bisognerebbe investire anche in studi e rivedere i modelli previsionali. Per Biancani, invece, bisogna insistere per realizzare delle casse di espansione dove le piene del fiume possono eventualmente arrestarsi perché si espandono in queste fosse che vengono realizzate ad hoc, come per esempio la cassa di espansione a chiusa di Ginestreto dopo 15 anni ancora sulla carta. Ecco perché si preme per queste realizzazioni, per questi lavori. E vediamo anche Cantiano che ancora è alle prese con gli effetti dell'uluvione. Il coraggio è più forte del fango. Gli imprenditori ripartiamo, ma aiutatici. Speriamo negli aiuti governativi. E questa è l'ultima notizia di cronaca. Invece, per quanto riguarda lo sport, vediamo come la Visse si prepara ad affrontare la vera prima trasferta dell'anno. Sassarini sull'anticipo di oggi a Sassari con la Torres alle 14.30. Mentre per quanto riguarda il Fano dice non dobbiamo montarci la testa per i primi risultati positivi che abbiamo guadagnato, Mosconi getta acqua sul fuoco dopo la vittoria col Trastevere e invista il Porto d'Ascoli. Un altro impegno impegnativo, diciamo così. Ebbene, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento alle 7 di lunedì prossimo. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie a tutti.